Prima edizione del Galà dello Sport a Piedimonte Matese che si è svolto nella sala consigliare organizzato dal comune di Piedimonte voluto dall'assessorato allo sport. L'idea parte proprio dall'assessore Luigi Ferrito che è uno sportivo di razza che ha trovato immediato riscontro in tutta l'amministrazione e sindaco in testa nel corso della manifestazione sono stati premiati gli atleti e le associazioni di ieri e di oggi che si sono distinte nello sport portando fuori dal Matese attraverso le proprie gesta sportive il nome della città. Successo anche di pubblico che ha partecipato numeroso a questa prima edizione. L'appuntamento è per il prossimo anno. Da Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it